Ben trovati su Crystal News ragazzi, vi ricordo che questo episodio è disponibile anche in un podcast, il link è qui sotto in descrizione o basta che cercate Crystal News su tutte le piattaforme di podcast come Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera. Allora gente, si è concluso l'E3 2021 e c'è molto da dire al riguardo, un po' già ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche una live che potete recuperare su Twitch e sul secondo canale YouTube, ma ci sono novità anche un po' esterne alla fase degli eventi. Ma di eventi dobbiamo parlare perché essendosi appena concluso l'E3 2021, a quanto pare, ah che tra parentesi sia conclusa con il Direct di Nintendo, a quanto pare sono usciti fuori dei numeri piuttosto importanti per così dire, anche se ritengo che siano un pochettino falsati, adesso vediamo il perché. Nella fattispecie ragazzi, E3 2021 la conferenza di Nintendo è stata la più seguita e 1,1 milioni di persone per Devolver. Secondo le ultime analisi di StreamHatch, la conferenza di Nintendo è stata quella che ha richiamato il più alto numero di persone, sono stati 3,1 milioni di giocatori collegati contemporaneamente a vedere quello che la grande N aveva da mostrare per il futuro di Switch. E in questo contesto sono notevoli anche i numeri di Devolver Digital in grado di richiamare 1,1 milioni di persone contemporaneamente, quasi quanto Ubisoft e Square Enix. Si tratta di dati piuttosto eloquenti, che indicano stati saluti di Nintendo, eccetera, 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 e Devolver col suo show folle strategie di comunicazione, uno di appuntamenti imprescindibili della fiera. Sono assolutamente d'accordo, ma di questo bisogna parlare un secondo ragazzi, perché io credo che questi dati siano veri, ma che possono fuorviare. Perché ve lo dico? Perché Nintendo Direct è stato per la, non so se per la prima volta onestamente, ma sicuramente questa volta, Nintendo ha vietato il co-streaming. Il che vuol dire che il Direct che è stato visto alle 3 2021 non è stato trasmesso da altri streamer. E quindi, in sostanza, ragazzi, che cosa succede? Che dobbiamo sommare i dati degli altri eventi con quelli di altri streamer che stavano guardando questi eventi. E che raccolgono tantissime persone, ragazzi, anche in Italia, figuriamoci, all'estero. E dato che il Nintendo Direct è stata vietata la co-trasmissione, è ovvio che tutti quanti sono andati lì per vedere l'evento. E quindi, sì, ok, è stato il numero più alto di persone, però, in tutta onestà, io non penso che sia per la qualità dell'evento. Che, onestamente, ho ritenuto abbastanza deboluccio. Con delle cose importanti, tipo un pochettino di gameplay e un periodo di uscita, diciamo, di Breath of the Wild 2, più altre cose, però, insomma, si poteva fare di meglio. Quindi, ragazzi, dati veri, però, sono, secondo me, un pochettino da prendere con le pinze. Continuiamo a parlare di Nintendo, perché il Direct, abbiamo visto che ha fatto dei grandi numeri, giusto? Ed effettivamente è così, perché l'abbiamo appena spiegato, ok? Per carità, ripeto, sono stati anche mostrati dei giochi interessanti, un po' di ciccia c'è stata, ma niente di che. Nonostante questo, però, guardate un po', Nintendo perde il 6% in borsa dopo il Direct delle 3 2021. Le 3 2021 di Nintendo è stato solido, con vari giochi interessanti, qualche sorpresa, soprattutto un nuovo trailer della teso dell'Angelo of Z. Eh, vabbè, non sono tanto d'accordo, però, vabbè, questione di opinioni. Tutto questo, però, conta poco perché le azioni in borsa di Nintendo sono calate il 6% negli ultimi 5 giorni. La motivazione? La più credibile è legata al fatto che non è stato annunciato un nuovo modello di Nintendo Switch Pro. E non sono stati svelati i giochi di primo piano, come Breath of the Wild 2, in uscita a breve termine. Nintendo ha quindi subito perso uno 0,8%, arrivando a 73,23 dollari. La mattina successiva, però, ha perso un ulteriore 3%. Non è un disastro, questo, ragazzi. E Forbes fa notare, infatti, che le azioni in borsa di Nintendo erano molto alte da tempo, grazie al continuo successo di Switch, cali di questo tipo, sono da considerarsi quindi normali, visto che il valore delle azioni si stabilizza in modo naturale. Per quanto riguarda, e questo è importante, Nintendo Switch Pro, i rumori e i leak sono così insistenti avranno oramai spinto l'intero pubblico a credere che la console sarà annunciata fra non molto. Per il momento, però, così non è stato. Probabilmente la mancanza di chip non ha aiutato Nintendo nella realizzazione dei propri piani. Ed è proprio questo, secondo me, il punto, ragazzi. Non credo che la perdita in borsa sia stata successiva alla qualità del Direct in sé. Io ho ritenuto che fosse un pochettino più debole, altri hanno ritenuto, come me, che fosse stato un po' debolluccio, però tante altre persone l'hanno assolutamente gradito. E comunque non si può dire che sia stato un evento orribile. È stata orribile la politica del non co-streaming, ma questa è un'altra questione. In compenso, però, il mancato annuncio di Nintendo Switch Pro, i cui rumor davvero sono insistenti da tantissimo tempo, ha portato molte persone a rivedere un pochettino le proprie posizioni. Ho avuto anche persone nella community che mi hanno detto beh, allora io ero quasi sicuro che sarebbe uscita, ma a questo punto comincio a pensare che no, che si trattasse di leak e di rumor infondati. Come penso io, ragazzi? No, io credo che arriverà. Io credo che arriverà a breve, ma credo che l'avrebbero voluta presentare già da un pochettino, probabilmente anche prima di QS3 2021, ma essendo la console pronta a essere lanciata, ma essendo questo un periodo di scarsità di semiconduttori, eccetera, e probabilmente avendo visto Nintendo la vera difficoltà di produrre tante console in breve tempo, soprattutto di questi tempi, penso che abbia deciso di rimandare alla produzione e molto probabilmente è questa la ragione per cui è scesa in borsa, perché chi sta investendo in Nintendo ha visto questa cosa come un ok. Probabilmente mi aspetto che le azioni salgano ancora, normalmente, però io mi aspettavo una nuova console e invece non è arrivata e dato quello che ho visto comincio a pensare che non arriverà ancora per un po'. E quindi, ragazzi, in borsa un pochettino cala. Ragazzi, non è da prendere, cioè non è da vedere questa cosa come un qualcosa di particolarmente tragico, è soltanto una cosa congiunturale, come dice giustamente l'articolo e la citazione di Forbes è precisa, le azioni di Nintendo sono alte da tempo, ok? Switch è un grandissimo successo, non è certo in dubbio la salute di Nintendo. Parlando invece di eventi, ragazzi, si è concluso l'E3 2021 e l'abbiamo fatto completamente in digitale con tanti appuntamenti differenti, tanti giochi mostrati, molti dicono che sia stato deludente, probabilmente sono d'accordo anche io, ma io avevo le aspettative basse, ve l'avevo detto di tenere le aspettative basse, perché è un anno, un pochettino di passaggio e di rinvii, questo 2022, e tutti però, adesso che la pandemia, grazie a Dio, sta iniziando un pochettino a perdere la sua morsa sulla vita della gente, come andrà a finire per gli eventi dell'anno prossimo? Bene, a quanto pare, l'E3 2022 torna a Los Angeles come evento fisico in presenza. l'E3 2021 poi ha concluso, ma è già il momento di pensare alla prossima edizione. l'E3 2022 è stato confermato come evento fisico in presenza, ovvero di tipo tradizionale e non esclusivamente online, con base a Los Angeles come da tradizione. La conferma arriva da Eric Garsetti, ovvero il sindaco di Los Angeles, niente meno, il quale ha affermato che l'E3 2022 ripenderà il suo posto a Los Angeles, presumibilmente presso lo storico convention center, in cui si sono svolte praticamente tutte le edizioni, prima delle ultime due. l'E3 2020 venne cancellato, e quest'anno è stato fatto interamente online, e però dopo che la pandemia da Covid 2019 ha perso mordente, ovviamente i prossimi si faranno, ovviamente è stato confermato che i prossimi si faranno in presenza. Quello che sappiamo arriva solo dal sindaco di Los Angeles dunque, cosa che ci spinge comunque a tendere conferme dirette agli organizzatori, per avere la certezza di questa scelta. Ok? È comunque probabile, e attenzione bene, questo è importante, di questo vi volevo parlare, che l'E3 2022 mantenga almeno parzialmente la struttura online in streaming utilizzata quest'anno, ma attendiamo comunque ulteriori delucidazioni, ed è questo il punto ragazzi. Ora, che cosa mi aspetto io? Che effettivamente non sarà più un evento soltanto digitale, perché queste celebrazioni sono comunque belle, e da tradizione, è andata sempre così. Però, però, nonostante io sia assolutamente convinto che gli eventi da qui in poi cominceranno a tornare a essere in presenza fisica, con assembramenti e cose del genere, tradotto vita normale, io però penso che questo periodo di pandemia abbia dato una notevole accelerazione, da cui non si torna indietro, riguarda la digitalizzazione di tante cose. Ok? Io penso questo di tante, non solo degli eventi videoludici, di molte trasmissioni televisive, di tanti altri tipi di eventi, di modi di intendere il lavoro a distanza da casa, eccetera eccetera. Io credo che la spinta verso la digitalizzazione, il lavoro in remoto e la connessione remota per svolgere delle determinate attività o eventi, sia stata molto più sdoganata, proprio grazie, molto tra virgolette, a questa pandemia. Quindi io mi aspetto in futuro, degli eventi che torneranno a essere in forma fisica. Ma mi aspetto che siano digitalizzati molto di più. Gli eventi come tante altre cose nella vita quotidiana, ragazzi. Questo è quello che penso. Quindi sì, E3 2022 anch'io penso che sarà in presenza, ma onestamente non ci metterei la mano sul fuoco, sul fatto che rimanga, cioè che torni a essere veramente con le stesse forme di sempre. Abbiamo visto tanti giochi, ragazzi, durante questo E3 2021, magari meno di quanti uno se ne potesse aspettare, ma ce n'è uno che, effettivamente di cui si sta parlando abbastanza, di questi tempi, che è Abandoned. Questo gioco qua, che dovrebbe essere una sorta di survival horror, se ho ben capito, ha tirato un pochettino l'attenzione su di sé. Non tantissimo, fino al momento in cui cominciate a venire fuori delle informazioni strane e sono state cominciate a formulare delle ipotesi che vorrebbero che sia un gioco Kojima. Le prove aumentano. In questi giorni sta facendo parlare di sé Abandoned, nuovo misterioso gioco esclusivo a PS5 presentato tramite PlayStation Blog. Gli autori hanno condiviso un teaser che ha subito fatto pensare al fatto che si trattasse di Silent Hill, ma hanno poi smentito le voci riguardo al fatto che fosse alcuna affiliazione con Kojima, Konami e Silent Hill. Questo però non ha impedito ai giocatori di creare tante ipotesi sulla vera natura del gioco e ora sono state raccolte tante prove, tra virgolette, se così vogliamo chiamarle. Quali sono queste prove? Prima di tutto, si parla del logo del team di sviluppo Blue Box Game Studios che è, come potete vedere, un negativo del logo PS Studios. Inoltre, il logo di PS Studios in versione animata si illumina in blu che hanno una punta scatola blu. Anche il fatto che il team si chiami Studios, pur essendo un piccolo sviluppatore, è strano. Parlando del team, si fa notare che l'unico dipendente noto è Asan Karaman, ovvero HK, ovvero le iniziali di Kojima. Inoltre, Google Translate traduce Karaman in Hideo, giapponese. Ora, adesso ne parliamo. Si continua parlando dei giochi di Blue Box, uno di quale è un accesso anticipato chiamato The Hunting Blood Water Curse, ispirato a Fatal Frame, classico horror giapponese, che si lega quindi all'ipotesi di Silent Hill. Il gioco, però, è stato preso in carica da Criatech Interactive, alto sviluppatore che sembra non avere un passato. Dopo i altri due giochi per Android, entrambi in accesso anticipato, non più disponibili, con esattamente 5 download totali. Uno di questi ha come logo l'impronta di una mano simile a Death Stranding. Anche Blue Box come team è misterioso, visto che sembra non avere un passato o sviluppatori. Asan Karaman ha un profilo LinkedIn, con quasi nessun collegamento e pochissime informazioni. Il canale YouTube e il team di sviluppo inoltre ha zero video, pur avendo come data di creazione il 2015. Si vede solo un'immagine che mossa colline montagne con della nebbia. Dobbiamo veramente dire Silent Hill? Però c'è un grande problema in questa teoria. Silent Hill e di Konami, che potrebbero essere in ottimi rapporti con Kojima. Avremo risposte con il trailer di presentazione, che ha una data e una app. Ne abbiamo già parlato di questo gioco in passato, ma l'abbiamo visto come progetto un pochettino secondario. Ed era lecito pensare questo, fino a quando non è venuto fuori tutto questo casino. Ora, queste cose vanno ovviamente prese con le pinze, ragazzi. E non vi nascondo che sono un pochettino perplesso, perché a me sembrano tutte prove circostanziali, diciamo così, ok? E non cosa a cui credere particolarmente. Allo stesso tempo, però, ammetto che, messe una in fila all'altra, queste cose, danno l'idea che ci sia qualcosa sotto. Non è soltanto uno speculare in maniera completamente vuota su delle cose che possono significare mille altre. Qua, se le mettiamo in fila, queste cosette qua, effettivamente qualche sospetto ti viene. Per come la vedo io, potrebbe essere un gioco fatto in collaborazione con Hideo Kojima. Perché no? Dopotutto è un autore rinomato che ha la sua casa di produzione e magari la spinta a fare un gioco horror stile Silent Hill è stata così forte che magari qualche team con dei buoni rapporti con Kojima ha pensato di realizzare questo progetto congiunto. Per ora è questa l'idea che mi sono fatto io. Non so se sarà giusta, ragazzi, però credo che non ci vorrà poi così tanto tempo per verificarlo. Diciamo così. Una cosa che invece possiamo verificare abbastanza velocemente ed è assolutamente certa ed è anche una figata è stata, beh, Forza Horizon 5. E ragazzi, abbiamo visto ovviamente la presentazione Microsoft in diretta insieme e ammetto che a vedere il gameplay e a vedere le immagini di Forza Horizon 5 io ho sgranato gli occhi perché soprattutto in alcuni momenti c'è un fotorealismo veramente impressionante. Io non sono tanto abituato ai giochi di guida magari è stato già raggiunto da certi titoli e io non lo so o perlomeno non ne ho l'esperienza di routine tale per cui, ok, non mi fa sgranare gli occhi così tanto questa grafica però, oh ragazzi, è stata la mia reazione a caldo e la reazione a caldo di tantissime persone. Però è uscita fuori una cosa ovvero che Forza Horizon 5 uscirà anche per all-gen e molti si sono preoccupati e io sono tra questi devo dirvi la sincera verità però è arrivata una comunicazione da parte del team di sviluppo che dice questo Forza Horizon 5 supportare Xbox One è come supportare un PC di basso livello. Alle 3 2021 Microsoft ha svelato al mondo Forza Horizon 5 il nuovo gioco di guida di Playground Games Il simulatore sembra essere graficamente di altissima qualità ma ovviamente è stato mostrato in versioni Xbox Series X e PC high-end Ci saranno problemi nel supportare le versioni Xbox One? Gli sviluppatori spiegano che non sarà così Precisamente Mike Brown game designer di Playground Games ha spiegato... Games? Non so più parlare Penso che dover supportare le console Xbox One richieda la stessa quantità di sforzo richiesta dal supporto di PC di basso livello La dichiarazione arriva da un'intervista rilasciata a Eurogamer.net Brown ha però anche aggiunto che il team di Forza Horizon 5 è convinto della qualità di tutte le versioni del gioco Attualmente abbiamo scoperto i dettagli sulla risoluzione di framerate in versioni Xbox Series XS con anche la presenza di una modalità a 60 fps su entrambe le piattaforme non sappiamo però quali siano le prestazioni che il team spera di ottenere su Xbox One con Forza Horizon 5 Abbiamo anche scoperto quali sono i requisiti minimi della versione PC alquanto permissivi probabilmente proprio perché Forza Horizon 5 è stato pensato per girare in buona qualità anche su Xbox One Ora ragazzi capisco la perplessità e io stesso ce l'ho riguardo a l'uscita su All Gen e anche riguardo a queste dichiarazioni Vi dico se si trattasse di un altro sviluppatore io sarei estremamente perplesso perché so per certo che molti sviluppatori hanno avuto in passato dei problemi a sviluppare su Xbox One Ok? Tradotto dobbiamo sviluppare per tantissime piattaforme e tantissimi sforzi sono stati fatti proprio per Xbox One originale che è probabilmente la console meno potente che ci sia al momento se non altro di quelle main probabilmente la Switch è quella però la Switch c'è anche altre feature in realtà e Xbox One è probabilmente quella rimasta un po' indietro perlomeno nella percezione generale non so se sia proprio vero dal punto di vista tecnico però vabbè in sostanza ho sentito parecchi sviluppatori parlare di questo ora però se si tratta di playground games che sono sviluppatori che sanno fare bene il proprio lavoro che si occupano di giochi di primissimo livello già da tanto tempo e si occupano di sviluppare su console quasi primariamente da tantissimo tempo allora mi sento un pochettino più tranquillo cosa voglio dire con questo che se loro mi dicono che davvero nel loro caso è come sviluppare su un PC di basso livello allora ti dico ok ci posso anche credere se si trattasse di qualcun altro ogni riferimento a CD Projekt Red è puramente voluto e allora sarei un pochettino più perplesso anche alla luce di quello che è successo abbastanza recentemente però se hanno detto così e sono loro e hanno sviluppato su console da tanto tempo allora ok vuol dire che sanno fare bene il proprio lavoro perché ottimizzare si tratta sostanzialmente di talento e soldi cioè quanto tempo spendi a ottimizzare delle determinate versioni quanto lavoro c'è da fare quanto bene lo sai fare delle cose bellissime possono uscire anche tranquillamente su Xbox One o PS4 e tanti team hanno dimostrato che è possibile però ci vuole un budget decoroso e tanta bravura e talento nel ottimizzare e quindi investimento in persone e mezzi e quindi se c'è questo bene e se non c'è invece è un problema però ragazzi si tratta di Playground Games quindi sapete che c'è diciamo che sono pronto a dargli credito vedremo poi quando uscirà il gioco se sarà davvero così altro gioco molto atteso e di cui abbiamo visto però in realtà molto poco è senza dubbio Starfield ragazzi Starfield era beh ampiamente atteso anche perché era nella nella dannata copertina dell'evento e quindi tutti si aspettavano che ci sarebbe stato e vi ho detto già più volte che secondo me è molto importante perché è l'occasione per Bethesda di risollevarsi un pochettino e di ritrovare la fiducia degli utenti dopo gli ultimi anni un pochettino traballanti oltretutto questo gioco ed è andata così per tutto quanto l'evento Microsoft in realtà è decisamente esclusiva Xbox e PC è stato detto più volte e fino a questo momento è confermato io personalmente penso che sia un'esclusiva temporale però per ora è stato detto esclusiva Xbox e PC quindi esclusiva ecosistema Microsoft e a quanto pare lo stesso team cioè voci più o meno ufficiali di Bethesda hanno pensato di scusarsi se l'esclusività Xbox ha rattristato i giocatori PlayStation Xbox all'eterno 2021 Microsoft ha dato prove ad avere un catalogo di giochi di alto livello pronto per noi in particolare in modo aperto e chiuso la serata con due esclusive Xbox ottenute grazie all'acquisizione di Zenimax Bethesda la più importante ovviamente è Starfield ora però Peter Heinz di Bethesda si scusa con i giocatori PlayStation che sono tristi per l'esclusività Xbox del gioco Peter Heinz che è SVP della divisione global marketing and communication presso Bethesda ha affermato scusate tutto quello che posso dire che mi scuso perché sono certo che sia frustrante per le persone ma non c'è molto che possa fare a riguardo proprio così ha anche affermato se sei un grande fan dei nostri giochi non sono più disponibili sulla tua piattaforma capisco se sei infelice o infastidito o che altro lo capisco sono tutti sentimenti comprensibili non so come placare le paure e le preoccupazioni fan PlayStation 5 se non dicendo che anche io sono giocatore PS5 e ho giocato con giochi su tale console e sono giochi che continuerò a giocare con essa ma se volete giocare a Starfield è su PC e Xbox Heinz ha poi precisato che le sue scuse non sono rivolte all'esclusività ecco appunto quanto più al fatto che è dispiaciuto che una parte del pubblico storico di Bethesda sia dispiaciuto di quanto stia avvenendo ovviamente Bethesda non vorrebbe attestare i giocatori ma come ha detto Heinz non c'è molto che si possa fare e Phil Spencer ha parlato del fatto che ci sia l'intenzione di espandere l'ecosistema e cercare altri modi per portare i giochi Xbox alle persone che non possiedono Xbox Series XS o anche un PC ma che vogliono comunque giocare i giochi che arrivano su Game Pass e che noi stiamo portando su Xbox quindi in qualsiasi direzione si espanda l'ecosistema Xbox ovviamente siamo eccitati a riguardo allora ragazzi questa questione è un pochettino delicata e trattarla durante le news è complicato ok però volendo spenderci diciamo due parole ok quello che io penso è che le esclusive siano abbastanza detestate dai giocatori per il semplice fatto che posso giocare a determinati giochi solo se possiedo quella determinata piattaforma e quindi io per esempio sono diciamo filosoficamente sul fatto di ognuno deve giocare a quello che vuole come vuole quando vuole però capisco perfettamente ragazzi che l'esclusività sia una forma di investimento per le aziende che una propria piattaforma e gli investimenti necessari per portarla a tante persone con una grande qualità e con un prezzo contenuto si traduca nel fatto che effettivamente è necessario avere delle forti esclusive altrimenti le persone non sono invogliate a spostarsi su quella determinata piattaforma microsoft in realtà ha fatto molto a riguardo per evitare questa cosa cioè già che c'è su xbox e pc già che c'è su xcloud che può essere giocato un pochettino ovunque già che la cosa si sta espandendo parecchio è un passo avanti playstation è molto più chiusa da questo punto di vista nintendo non ne parliamo ovviamente capisco che alcuni possano essere scontenti di questa cosa però ragazzi fa parte del mercato e l'esclusività di certi giochi sono un valore aggiunto per certe piattaforme funzionano le persone comprano certe piattaforme apposta per certi giochi succede ragazzi sony ne è un esempio assolutamente classico di questo sono tantissime le persone che hanno una playstation solo per l'esclusiva playstation io vi dico che sono uno di questi praticamente e non ci si può meravigliare se microsoft un po' meno degli altri ma un po' sta facendo la stessa cosa adesso che può permetterselo perché ha una quantità enorme di sviluppo quindi tant'è ragazzi non c'è molto da dire non credo che le scuse siano poi particolarmente necessarie però questo è uno che lavora nel marketing è una comunicazione aziendale questa praticamente ed è giusto che sia stata fatta in questi termini dato che abbiamo parlato di sony ragazzi ps5 va a gonfie vele certo se ne trovano poche ma è uno dei motivi per cui va a gonfie vele comunque sono tanti le unità cioè le unità quelle che ci sono vanno via subito e molti si stanno chiedendo in realtà però che evoluzione avrà il VR perché è una delle cose di cui si è sentito parlare poco già si sa che un nuovo VR per proprio esclusiva per ps5 arriverà però non se ne è saputo più niente e c'è da parte di Bloomberg qualche indiscrezione al riguardo ovvero PlayStation VR 2 come si chiamerà il nuovo visore a realtà virtuale che Sony sta sviluppando per ps5 dovrebbe uscire nel corso del 2022 secondo quanto riportato da Bloomberg che a sua volta si rifà a fonti interne presumibilmente affidabili il report della testata giornalistica si basa soprattutto sulla produzione di pannelli LCD e visori VR in generale ma si sofferma anche sul nuovo modello di psVR che sappiamo essere in sviluppo presso Sony già da tempo con la convinzione che l'uscita di questo sia fissata per il tardo 2022 questo deriva da una serie di informazioni raccolte riguardanti la produzione di schermi LCD di vario tipo sembra infatti che Japan Display Inc si sia concentrando in maniera particolare sulla produzione di piccoli pannelli previsori a realtà virtuale che dovrebbero dunque ricevere una notevole accelerata nel prossimo periodo tuttavia a questi sembra che non vengano utilizzati da Sony la quale preferisce contare sui prodotti OLED di Samsung display per la nuova generazione di psVR su ps5 il quale dovrebbe dunque sfruttare questa tecnologia per i suoi schermi integrati in base allo stato della produzione secondo Bloomberg il lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2022 il primo modello di psVR ha raggiunto 5 milioni di unità vendute già da qualche tempo cosa che rappresenta una minima frazione degli oltre 115 milioni di ps4 vendute ma che nel suo segmento di mercato ha un valore significativo considerando il tasso di adozione di questi dispositivi tanto a convincere Sony a proseguire su questa strada con un nuovo psVR per ps5 perfetto sono effettivamente tutte le cose che mi portano a dire anche a me ok sì probabilmente nel 2022 arriverà ma c'è una cosa e ne abbiamo parlato anche durante queste news riguardo alla switch pro eventuale che tutti sembrano che arriverà me compreso il psVR 2 arriverà ragazzi è già confermato da Sony quindi qua non si tratta di speculare tanto si specula sulla data e secondo me il 2022 ha senso per tanti motivi quelli detti dall'articolo ma non ultimo il fatto che effettivamente ragazzi c'è la scarsità di componenti a disposizione e anche un visore VR ne ha parecchi al suo interno ok motivo per cui io credo che Sony stia attendendo ancora un pochettino per presentare il suo nuovo VR perché vuole assicurarsi che questo vada nelle mani delle persone il più velocemente possibile e credo che questo ragionamento lo possiamo fare per tante cose ai giorni nostri comunque io pure penso che arriverà nel 2022 sono anche curioso di vedere come sarà paragonato agli altri visori perché per adesso il psVR è uno dei più debolucci soprattutto di questi tempi ma sono pronto a scommettere che il VR 2 invece sarà bello tosto come specifiche proprio perché Sony è diciamo spinta a volere un'esperienza premium con i suoi utenti lo si vede da tantissime cose quindi io credo che il nuovo visore di Sony sarà soddisfacente dal punto di vista tecnico non ci resta che vedere il 2022 dovrebbe darci delle nuove insomma parecchie novità e questo è tutto per le news per oggi ragazzi ovviamente vi ricordo che potete trovarle anche su podcast il link qui sotto in descrizione basta che cercate Crystal News su Spotify Apple Podcast eccetera eccetera grazie a tutti per aver visto questo video fatemi sapere che cosa ne pensate mi raccomando qui sotto nella sezione commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram Telegram e Discord tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.